Aventi, fronte, si, fronte, si, fronte, si, avanti, marchi. La mia chiamata è una caciotta. La mia chiamata è una caciotta. Anche a questo pensiero che sembra nato. La mia chiamata è una caciotta. La mia chiamata è una caciotta. È l'aria del campagna, è l'aria del campagna. La mia chiamata è una caciotta. È l'aria del campagna. La mia chiamata è una caciotta. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Gianco, sinistra. Tristra. 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 Cura del Dipartimento Scuola educazione, Baurinonda la seconda puntata dal titolo. Osservazione e analisi della interazione verbale di classe Informiamo gli ascoltatori che il materiale illustrativo relativo al programma è disponibile presso il Dipartimento Scuola Educazione via Orazio 21, Roma Vi ricordiamo inoltre che la terza puntata del ciclo La Comunicazione Didattica andrà in onda venerdì prossimo, 4 dicembre alle ore 23 e 45, sempre sulla Rete 2 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Pronti, sinistra, pronto Sì, sì Avanti, marchi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Non è bello, però si ha visto un bel ciuffo Grazie a tutti 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 Grazie.